Il nome del killer è Giovanni Barreca, 54enne. La notte scorsa ha tolto la vita alla moglie Antonella Salamone e i figli di 16 e 5 anni Kevin ed Emanuel. L'omicidio è avvenuto intorno alle 3 di notte. Dopo il delitto Barreca ha chiamato il 112 raggiungendo telefonicamente i carabinieri i quali ha raccontato di aver commesso il triplice omicidio. Poi si è fatto trovare a Casteldaccia, paese a pochi chilometri d'Alta Villa Milicia, dove è stato arrestato dai militari dell'arma. Secondo quanto si apprende il delitto sarebbe particolarmente efferato. La donna sarebbe stata bruciata e sepolta. Uno dei figli uccisi sarebbe stato torturato e strangolato con delle catene. L'unica familiare a salvarsi dalla follia omicida di Barreca è stata la figlia di 17 anni. Agli investigatori ha raccontato che Barreca, fanatico, religioso, durante la notte si sarebbe svegliato farneticando di aver percepito presenze demoniache in casa. La ragazzina si è alzata dal letto intontita e ha visto i corpi dei fratelli senza vita. Dalle prime ricostruzioni pare che sia coinvolta nel delitto una coppia di conoscenti di Barreca sentita in caserma insieme al 54enne. L'omicidio è avvenuto in via Reggia tra Zera Marina di Granatelli, nella parte alta del paese in provincia di Palermo. L'indagine è adesso condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo. Sul luogo del triplice omicidio sono arrivati anche gli investigatori del RIS, il reparto investigazioni scientifiche.